Buongiorno agli amici e amiche di Volonvrite, siamo al Monviso Sporting Club per il torneo di tennis. Abbiamo qui Ivan Tratter, ciao Ivan. Oggi stamattina, giornata di quarti di finale, ti ha visto vincente. Che partita è stata? Ho giocato contro Massimiliano Banci, ci conosciamo molto bene, ho provato di più di giocare sul punto debole. Poi è andato bene, ho vinto 6-3, 6-3. C'è stato un momento della partita in cui hai pensato di farcela o un momento più difficile? Sì, nel secondo set eravamo tre pari e lì dovevo impegnarmi tanto. Hai buone impressioni, passi in semifinale, domani giochi e buone impressioni per il proseguio? Sì, non so ancora contro chi gioco, ma potrebbero essere Silvio Colea o Mike Denayer. Sono tutti e due giocatori forti e lo stesso chi vince diventerà difficile per me, oggi provo. Chi hai visto giocare che temi un po' di più o ti piace di più in questo torneo? Ci sono tanti giocatori forti e li vedo sempre, al momento ci sono tanti tornei, però secondo me Silvio Colea è quello più forte. Allora in bocca al lupo, grazie e complimenti per la vittoria. Allora in bocca al lupo.